Giuseppe Conte, con le sue dichiarazioni sui talebani, è riuscito a far arrabbiare tutti, compreso il premier Mario Draghi. E così Di Maio ha sbugiardato il neo-leader dell'M5S alla sua prima uscita pubblica. Giuseppe Conte fa arrabbiare tutti. La sua sparata del dialogo serrato da intevolare coi talebani ha infastidito molto i Cinque Stelle, soprattutto il ministro degli esteri Luigi Di Maio che è dovuto intervenire in prima persona per sbugiardare il neo-leader dell'M5S. Tra i parlamentari pentastellati, come fa notare TIPI, nessuno ha voluto intervenire a sostegno delle parole di Conte e tantomeno c'è stato qualcuno che lo abbia criticato apertamente. Tutti si sono chiusi in un imbarazzatissimo silenzio, persino i più fedeli dell'ex premier. Parlare di clima distensivo del nuovo regime talebano, sarebbe come cercare di convincere Dracula a non bere più sangue, dichiara TIPI.it un membro della maggioranza di governo. Le parole di Conte, però, oltre a creare imbarazzo tra le forze di maggioranza, hanno avuto l'effetto di indispettire non poco il premier Mario Draghi che avrebbe detto, su questioni di questo tipo non sono ammesse distinzioni di sorta, la maggioranza deve essere unita. Ma non solo. L'inquilino di Palazzo Chigi avrebbe sollecitato il suo ministro degli esteri a prendere una posizione netta e chiara sul tema. È importante agire in maniera coordinata nei confronti dei talebani. Dobbiamo giudicarli dalle loro azioni, non dalle loro parole. Ha dichiarato ieri Di Maio che poi, ha aggiunto, abbiamo a disposizione qualche leva, sia pure limitata, su di loro come l'isolamento dalla comunità internazionale e la prosecuzione dell'assistenza allo sviluppo fornita finora. Il responsabile della Farnesina ha, infine, chiusato, dobbiamo mantenere una posizione ferma sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, e trasmettere messaggi chiari tutti insieme. Insomma, alla sua prima vera uscita pubblica da leader dell'M5S, Conte è riuscito a fare irritarie draghi e a farsi smentire da un esponente autorevole di quel movimento che si appresta a guidare. Grazie a tutti.